E' quando uno si potrebbe essere consapevole, la donna che sa già da poco che deve salvare, rimare o restituzione da un'altra zona. Questo spiega anche perché è difficile trovare l'arco con quel che è un po' lontano, perché il sangue vuole stifiche al centro e anche se questo è un po' lontano. C'è un po' lontano, c'è un po' lontano, non mi chiedere, 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 è un po' lontano, e anche il nostro spiega è un po' lontano, Grazie a tutti. Grazie a tutti.